Cambiamo argomento e parliamo di politica alcamese. L'Udc in Consiglio Comunale richiede delucidazioni sulla questione rifiuti e chiede la dimissione dell'assessore a Ramo, D'Angelo. I dettagli nell'intervista al consigliere comunale, nonché capogruppo dell'Udc, Saverio Messana. Il comune di Alcamo, che è un comune abituato a differenziare, un comune che era tra i primissimi in Sicilia e tra i primissimi in Italia, ho detto l'altra sera, Noi siamo giunti nemmeno al 30%, perché attualmente siamo sotto il 30%. La mia città si trova al penultimo posto, che era il primo posto in Sicilia, non ci sta bene. Quando un comune si trova al penultimo posto c'è un motivo, c'è un perché. E io chiedevo il perché noi siamo al penultimo posto. Nella risposta che ho avuto dall'assessore D'Angelo, che mi dice che pretende sempre problemi di siti, gli altri comuni, comuni anche più grossi, io parlo di Mazzara, parlo di Marsala, Parlo di Trapani, parlo di altri comuni che sono anche più grandi del nostro comune. Quando gli altri comuni riescono a percentuali, per ora voglio dire, non prima, del 60%, addirittura ci sono comuni a volte del 70%, sono comuni più piccoli giustamente, ma alcuni i comuni più grandi del nostro, Marsala e Mazzara, sono al 60%. Perché? L'assessore all'ambiente, che nella nostra città per motivi di lavoro, per motivi suoi, personali, c'è pochissimo, non segue tutto quello che potrebbe fare un assessore all'ambiente. Che cosa può fare un assessore all'ambiente? Quando un camion si sposta da Alcamo in un sito, io parlo dell'umido in questo momento, e magari al sito non lo fanno scaricare, l'assessore o il sindaco si mette in macchina, se ne va sul sito dove non fanno scaricare i nostri camion e se vede se c'è un camion che scarica, chiama il prefetto e denunzia quello che sta succedendo in quel sito. Il mio comune che si è adagiato su Alcamo, immischiando indifferenziato con umido e a queste percentuali bassi, a noi non ci sta bene, ci ha detto assessore. Lei può essere un tecnico importante, però io preferisco l'assessore operaio che ogni mattina è dentro gli uffici, si informa di come fanno le cose e cerca di migliorare questa differenziata che veramente è al minimo storico. E qual è la soluzione per superare questo impasse? Stare sul pezzo, giorno dopo giorno. Poi un'altra cosa, ho detto all'assessore, lei è stato nominato il primo settembre del 2019, a 20 dicembre le giunte sono state 24, lei in 24 giunte è venuto soltanto 5 volte, l'80% è assente, lei non sa nemmeno cosa fa il comune di Alcamo. Quindi questo è il dato politico, qual è la soluzione al dato politico? La soluzione è, ma io l'ho detto chiaramente, io mercoledì in consiglio, lei si deve dimettere, deve avere la dignità degli leaders. Guardi, non c'è niente di male, se lei può fare altri lavori, non può fare un terzo lavoro, fra le quali l'assessore stesso ha dichiarato in maniera candida, io sono ad Alcamo, faccio l'assessore ad Alcamo part time, mai sentito dire di un assessore che dichiara lui stesso che è un assessore part time. Ecco perché noi abbiamo chiesto le dimissioni dall'assessore d'Alcamo.